La Juventus è a Milano da ieri sera, ospite dell'Hotel Melia, dove continuerà a preparare la gara con i rossoneri di questa sera. La vigilia è buona, a parte il fumo, che c'è in giro sopra Torino, Milan Juve è sempre una gara di grande fascino. Il Milan ha trovato una vittoria importante contro il Chievo. I rossoneri lotteranno per le prime quattro posizioni. Mercoledì ero arrabbiato, abbiamo sbagliato molti passaggi. Alla Juventus bisogna fare meno errori tecnici ha spiegato Allegri in conferenza stampa. Il tecnico bianconero confermerà il 4 febbraio 3. In porta tornerà Buffon. In difesa sulla destra Lichsteiner, in mezzo Chiellini e Rugani, mentre a sinistra toccherà ad Asamoa, che potrebbe aver vinto il ballottaggio con Aleksandro. A centrocampo spazio a Pjanic e uno tra Chedira e Marchisio, Bentancur e Matuidi, che saranno in panchina. In attacco dietro a Higuain, torneranno Quadrado e Mandzukic insieme a Dibala. Punto. 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 Punto.